Radio Radicale, siamo con Lorenzo Cesa, deputato e segretario dell'Udc, per parlare con lui della scomparsa di una persona che noi conoscevamo, che avevamo imparato ad apprezzare, ad amare, Franco Frattini, che è stato ministro dal 1995 del governo Dini, poi è stato commissario europeo, è stato anche presidente del COPASIR, e poi ministro degli esteri. Allora, che vuoto lascia questa figura che era giunta alla presidenza del Consiglio di Stato e per cui si era parlato anche dell'elezione a presidente della Repubblica? Sì, Franco innanzitutto è stato un grande italiano, che ha difeso sempre gli interessi italiani in tutti i luoghi dove lui ha avuto ruoli, ruoli sempre importanti. Io ho avuto una frequentazione con Franco Frattini, soprattutto a Bruxelles, quando lui ha ricoperto l'incarico di vicepresidente della Commissione europea. Voglio ricordare proprio uno degli aspetti che non è immerso tanto in questi giorni. Franco era un grande europeista e quando ci vedevamo molte volte la sera mi diceva di spingere in Parlamento sempre perché l'Europa potesse fare dei passi in avanti, che fosse sempre più unita. Parlevamo dell'esercito comune, parlevamo di una politica estera comune, parlevamo di cose che oggi sono di grande attualità. Ecco, Franco aveva anche una grande visione dell'Europa, una grande visione delle questioni nazionali ed è stata una grande perdita per il paese perché ha servito il paese con grande competenza, con grande onore, con grande forza e mancherà molto alle istituzioni italiane. Lui non è mai entrato in nessuna grossa polemica, in nessun grosso scontro politico come per esempio era accaduto con Buttiglione. Allora, quale pensa sia stato il suo grosso merito politico e relazionale? Ma sul suo tratto umano, la sua grande signorelità, un gran signore, quindi questo contraddistingueva la persona anche nei rapporti e interpersonali e politici, quindi questo ha caratterizzato anche la sua vita, quindi ha servito sempre il paese, ovunque lui sia stato, da ministro della funzione pubblica, ministro degli esteri, al segretario generale di Palazzo Ligi, a presidente del Consiglio di Stato, sempre con un profilo di grande compostezza, ma di grande anche signorilità e anche a volte di grande silenzio, perché vedo mancare spesso anche da chi guida istituzioni, che sono abituati a fare esternazioni del tutto magari improprie. Ecco, Franco è stato veramente un grande signore, un grande uomo di legge, perché era veramente un raffinato giurista e soprattutto veramente un grande uomo, un grande italiano e voglio ricordare anche un grande sportivo, perché lui amava la vita, quindi non solo si dedicava con grande forza e passione alle attività politiche o alle attività che ultimamente ha svolto in Consiglio di Stato, con grande passione e grande competenza, ma si dedicava anche alla privativa, era un appassionato di sport, era un grande sciatore, era presidente, è stato presidente addirittura dei maestri di sci per molti anni ed era molto onorato, ci lavorava moltissimo, questo è un altro aspetto che mi preme ricordare di Franco, e tutto questo mi fa trasparire veramente un grande personaggio, un grande uomo che mi mancherà molto all'Italia e agli italiani. Ultima domanda, poteva essere un candidato alla presidenza della Repubblica? Assolutamente sì, aveva il profilo per farlo, aveva grandi relazioni internazionali innanzitutto, grande competenza e un grande uomo che ha servito sempre l'istituzione e avrebbe fatto benissimo il Presidente della Repubblica. La ringrazio per questo bel ricordo, grazie a Lorenzo Scetta dell'Udc.